Predestinato ciclo vitale Il silenzio delle stelle attraverso Maria Teresa G. guida Ogni essere nasce alla fisicità portatore di un predestinato ciclo vitale, se ciò però è stabilito da un karma irreversibile. Qualora invece non sussista un fatto karmico che coinvolga il suo percorso temporale, questo sarà esclusivamente indotto e condizionato dalle sue stesse scelte di vita. Comunque sia l'entità umana, animale o anche vegetale, così come nasce, così si estingue, perché nulla, proprio nulla di materia e nella materia, può essere eterno. Anche se mai voi vi soffermate a considerare questa realtà, tutto intorno a voi è un incessante morire ed un incessante sbocciare alla vita, come avviene del resto anche nel mondo dell'oltre. In tutti i suoi piani, inconformità alle leggi imperscrutabili che regolano perfettamente l'ingranaggio di un immane, misterioso congegno che niuna mente umana potrebbe mai progettare. Non siamo dunque noi a dover decretare, a dover stabilire la durata della nostra o dell'altrui esistenza terrena. Ed il porvi fine in qualsiasi modo e veramente tramite un atto di volontà è una delle colpe più gravi delle quali possiamo macchiarci. È un vero e proprio omicidio, anche se la vittima in quest'ultimo caso si dichiarasse consenziente o addirittura, come spesso avviene, sia proprio lei ad implorare la morte a coloro che l'assistono. Non crediate che chi vi parla non sappia comprendere lo strazio nel vedere spegnersi tanto dolorosamente una persona cara. Non crediate che io non conservi il ricordo dei miei disperati pianti reduce dalle visite alla mia adorata nonna che morì appunto in tal modo né che io non conservi ancora più vivido il ricordo non solo della mia malattia ma anche il ricordo di mia madre resa come trasparente e divorata dall'imponente dolore. L'essere incarnato teme molto di più la sofferenza che la morte e ciò esprime la sua fragilità umana. Se non fosse così limitatamente vulnerabile non sarebbe più uomo ma già Dio ma questa è una consapevolezza che acquisirà soltanto allorché farà ritorno definitivamente alla dimensione dello spirito. Badate, non ve ombra di biasimo nelle mie parole. Qui nessuno giudica nessuno. Spetterà l'uomo giudicarsi individualmente allorché avrà sufficientemente allargato la propria coscienza.